C'è un confronto costante nel Gironeri. Le società del raggruppamento del San Tommaso hanno creato una rete di contatti per capire come trovare soluzioni economiche per non lasciare soli i testrati dei club. Come sottolineato dal direttore generale dei Grifoni Cuciniello, è giusto che i giocatori prendano quanto gli spetta. Sono state queste le sue parole. Nel frattempo arriva una buona notizia per le varie federazioni e per le società dilettantistiche che tramite determinati parametri possono richiedere al credito sportivo che ha stanziato 5 milioni di euro complessivi entro il 31 dicembre 2020 liquidità anticipata. Ovviamente le associazioni e società sportive dilettantistiche devono essere riconosciute ai fini sportivi dal CONI. Una notizia che potrebbe rendere meno amaro questo momento per alcuni club e che forse potrebbe permettere a qualche società che stava pensando di abbandonare di salvare la pelle e continuare anche nella prossima stagione sportiva. Pure se sembra inevitabile che il prossimo anno specialmente in Lombardia e Veneto parecchie società alzino bandiera bianca.